Ciascuno di noi ha due cuori, ma uno dei cuori eclissa l'altro. Se ognuno di noi riuscisse anche per un solo istante a intravedere la luce del suo cuore nascosto, allora capirebbe che quello è un cuore sacro e non potrebbe più fare a meno del calore della sua luce. Lei deve essere Aurelio. Irene? Sì. Davvero? Puoi conoscere la verità? Ma lei chi è? Cosa voleva da mia figlia? Cosa vuole da me? Ho solo un bel ricordo di quando ero giovane. Lei. Ma riconosco di agli altri. Riconosco solamente il pieno e la quercia. Credevo fosse una ricca signora. Il tuo cuore segreto è un cuore sacro.